Cari studenti, qui collegati da Portico di Caserta, vedete tantissimi atleti che dovrebbero in questo momento partire. Ci sono anche le biciclette del Land Bike che partiranno quattro minuti prima e a momento dovrebbero partire. Land Bike parte con gli applausi da parte della piazza. Ecco, un nuovo sport che sta assumendo davvero rilevanza nazionale. Si dovrebbe partire a momenti, carissimi utenti, dodicesima edizione, gara portichese, migliaia di atleti che hanno partecipato alla gara portichese qui a Portico di Caserta. Ecco, tre, due, uno, via ed ecco che si parte, carissimi utenti, con la piazza di Portico di Caserta. Migliaia di atleti e intanto c'è Antonio Farina. Antonio Farina che è in prima posizione, come si vince dalle immagini dell'International Security Service. Ecco appunto Antonio Farina in prima posizione. È una gara per velocisti e in questo momento c'è anche un'altra atleta qui nelle immagini che è il 1140, che è anche dell'International Security Service. Ecco, diciamo, la fila di atleti, la massa di atleti che in questo momento sta attraversando le strade di Portico di Caserta. Siamo poi Marco Piccolo, Marco Piccolo alla destra di Antonio Farina. Davvero sarà una gara molto interessante da un punto di vista tecnico. Si stanno attraversando le strade di Portico di Caserta. Vedete che c'è davvero, intanto carissimi utenti, man mano il gruppo di testa cerca di poter distanziarsi dalla massa, come si vince dalle immagini ed ecco in azione in questo momento Antonio Farina. Ed ecco che in questo momento appunto il gruppo di testa cerca di distanziarsi dalla massa. Antonio Farina è in prima posizione, è al comando della corsa dal primo minuto, come si vince dalle immagini. Ricordiamo che Antonio Farina ha già vinto altre gare qui a Portico di Caserta. Intanto c'è una curva, giusto? Intanto nelle immagini appunto abbiamo, c'è anche carissimi utenti Mohamed, gladiatori di capua antica. Mohamed è all'interno del gruppo, potrebbe essere una minaccia per Antonio Farina e per Marco Piccolo. Vediamo come si svolge questa dinamica. Intanto si attraversano le strade di Portico di Caserta. Abbiamo intervistato il sindaco, il quale in realtà ha posto in essere l'importanza di questa kermes podistica. E la sua opinione è stata molto positiva anche per le passate edizioni. Una kermes sportiva ma in contemporanea anche turistica che fa conoscere. E intanto ecco la massa. Nelle immagini c'è un'altra curva. E intanto Antonio Farina continua a primeggiare insieme a Marco Piccolo nel gruppo di Tessa. Come si vince dalle immagini. Ecco, volevo ricordare che ci sono tante le società partecipanti. Dall'International Secur di Servi all'Atletica Marcianise, alla Podistica San Maritana, a Amatori Podismo Benevento, alla Superstar Marano, a Terra dello Sport, a Erco Sport. Poi abbiamo anche nuove società. Abbiamo la Podistica Normanna, che è una società di Aversa. Una società di Aversa. Poi abbiamo la Tifata Runners Caserta. La Tifata Runners Caserta. Abbiamo quindi praticamente tantissime le società partecipanti. e in realtà abbiamo, ecco, Domenico Mellucci della Tifata Runners Caserta, che è anche nel gruppo. Qui abbiamo Mohamed, Domenico Mellucci della Tifata Runners Caserta. Poi abbiamo appunto Marco Piccolo e abbiamo Antonio Farina dell'International Security Service. In questo momento sia Antonio Farina che Marco Piccolo stanno dominando la gara. Ormai il gruppo di testa si è distanziato. C'è Mohamed e poi c'è Mellucci all'interno. Quindi alla fine abbiamo... Vedete come si corre qui a Portico di Caserta. Altri atleti sono dietro, come si vince dalle immagini, e quindi in realtà vengono seguiti. Vengono seguiti e in realtà il gruppo di testa viene seguito. Intanto si continuano a percorrere le strade. Ricordiamo altre società che partecipano alla potistica normanna. anche i Pini Crispano, i gradatori di Capo Antica, tra cui abbiamo Mohamed nel gruppo. Ed ecco intanto, carissimi utenti, Marco Piccolo. Marco Piccolo adesso ha superato Antonio Farina e si porta in testa al gruppo, come se vince dalle immagini. Marco Piccolo in questo momento è in prima posizione. attenzione, è davvero molto variabile questa gara, una gara che assume la sua dinamica. attenzione, è davvero molto variabile questa gara che partecipano alla potistica. In tal senso... attenzione, un attimo... attenzione, un attimo... attenzione, abbiamo appunto Marco Piccolo dell'International Security Service. Marco Piccolo dell'International Security Service è in prima posizione, però Antonio Farina lo segue. È davvero una sfida al caldo palmo. C'è un gruppo di testa formato da cinque atleti. non è semplice vincere questa gara sia per Marco Piccolo che per Antonio Farina. Quindi, in realtà, è davvero una gara davvero sostanziale da un punto di vista tecnico. Attenzione, perché in questo momento Marco Piccolo è sempre in prima posizione. Marco Piccolo. Antonio Farina, poi, è sempre lui che cerca di superare. Ancora Antonio Farina nelle immagini. Poi c'è Mohamed. Ed ecco, carissimi utenti, davvero, ci troviamo sempre sulle strade di Portico di Caserta. Ricordiamo che il 1212 è Macolino, del gruppo Millepiedi. Ci sono cinque atleti in questo momento pronti a poter raggiungere il traguardo per la gara di Portico di Caserta. Nelle immagini, sempre in prima posizione, Antonio Farina. Ed è seguito, appunto, dagli atleti Marco Piccolo, Domenico Mellucci della Tifata Runners Caserta, da Macolino Millepiedi. E poi abbiamo l'Amgai Mohamed, della gladiatorica Poantica. Davvero un gruppo intenzionato a poter in realtà vincere questa gara. Vediamo cosa succede. Nelle immagini, i due protagonisti assoluti sono stati finora Marco Piccolo e Antonio Farina, in quanto hanno gestito la gara in le prime posizioni e mantengono le stesse posizioni sempre in prima posizione. Come se vince dalle immagini. Diciamo che in realtà i due atleti sono pronti a poter dare il meglio di sé. Però dietro di loro ci sono anche altri atleti. Abbiamo appunto Giuseppe Angelillo della International Security Service. Eccolo le immagini. E poi abbiamo altre tanti atleti. Tutti che fanno parte di tante società. Partecipano tanti atleti di tante società come le Forze Armate, Libero, Terra dello Sport, Tifata Runners Caserta, ha già detto, International Security Service, Amatori Marathon Frattese, Caevano Runners, Road Runners Maldaloni. Poi abbiamo l'Atletica Marcianilze, che è nata tre anni fa, Forze Armate, Amatori Vesuvio, Il Parco, Joy of Running, Atletica Calles. Vedete nelle immagini quanti atleti sono migliaia. Poi abbiamo Liberi Insieme, Atletica Isauro a Valle del Lino, Atletica Giuliana, Amatori Marathon Frattese, Napolitana, Atletica San Nicola, New Atletica Fragora, I Cladetori di Capo Antica, Atletica Marano. In più abbiamo Podistica Normanna, Podistica San Maritano, San Maritano, scusatemi, Poi abbiamo ancora Napolitana, Atletica Sabaudia, ci sono atleti provenienti anche da fuoricampagna, di Leone di San Marco Evangelista. Poi abbiamo ancora altri atleti come la WISP, Comitato di Caserta, Napolitana, Joy of Running, Run Lab, abbiamo Fiamma Argento, Power Casa Joy. Vedete quanti atleti, soprattutto anche donne, che partecipano alla Kermes Sportiva, abbiamo ancora Podistica Frattese, Run for Love, poi abbiamo Amici del Podismo Maddaloni, Erco Sport, Liberi Insieme, Ipini Crispano, Fiamma Argento, abbiamo anche Atletica Versa, Aversano, Podistica Normanna, New Atletica Fra Gola, Mondragoni in Corsa, insomma, sono davvero tante le società protagoniste in questa gara, ma sono soprattutto migliaia gli atleti che stanno attraversando le strade di Portico di Caserta, davvero una Kermes Sportiva riuscita nelle migliori condizioni possibili ed inimmaginabili. Una organizzazione impeccabile che ha consentito di poter percorrere le strade senza problemi di traffico e senza intraccia alla gara, questo è un dato oggettivo fondamentale perché per realizzare una gara si devono utilizzare le strade del comune, quindi sono 10 km utilizzati ma molto ben organizzati ricordiamo che la gara deve essere condotta in modo preciso nel senso che gli atleti non è che partano subito in fuga soltanto giustamente chi se lo può permettere però anche mantenere una certa costanza in una gara di velocità consente in realtà sia alle donne che agli uomini di poter piazzarsi nelle migliori posizioni anche andando ad un ritmo medio in questo caso vedete che ci sono tantissimi atleti sono migliaia che in realtà hanno partecipato a questa chermessa sportiva che ogni anno offre davvero numerose soddisfazioni grazie anche all'impeccabile organizzazione della podistica di Portico di Caserta davvero sono tante anche le categorie perché abbiamo appunto categoria M65 M70 partecipano anche M75 persone che hanno un'età superiore diciamo ai 50 anni e si arriva fino ai 75 anni con categorie anche diciamo più basse e quindi diciamo che l'organizzazione riesce intanto siamo sulle strade di Portico di Caserta abbiamo in prima posizione come se vince dalle immagini Marco Piccolo della International Secure di Service nelle immagini dietro di lui c'è appunto Antonio Farina e dietro ancora in terza posizione proprio a un metro di distacco cioè Domenico Mellucci della tifata Runners Caserta davvero è tutto in gioco questa posizione ma l'originalità di questa gara è che è uno sprint è una competizione esclusivamente italiana come se vince dalle immagini quindi sono tutti italiani in realtà i tre atleti che sono nelle prime posizioni ecco le immagini Domenico Mellucci cerca di strappare il secondo posto ad Antonio Farina molto in forma l'atleta della tifata Runners Caserta che tende un assalto in prima linea ma a tutelare il primo posto c'è appunto Marco Piccolo della International Security Service c'è un motorino dietro di noi ma che controlla giustamente il traffico e qualunque mezzo che potrebbe impedire eventuale c'è anche la gara della pista come se vince dalle immagini abbiamo ancora appunto Marco Piccolo in prima posizione Antonio Farina diciamo che in questo momento c'è uno studio strategico cioè gli atleti stanno studiando come poter risolvere il problema nella fase finale della gara questo è molto importante quindi si tratta di un momento di riflessione da parte degli atleti che corrono ma nel contempo riflettono riflettono per poter riuscire a vincere diciamo non è facile realizzare una gara polistica su 10 km e poter vincere in un blocco insomma in pochi minuti ma in realtà bisogna anche pensare per poter adottare delle strategie utili pensare ad una fuga pensare ad incrementare il ritmo ci sono tante giustamente le idee che possono venire in mente si cerca poi di mantenere giustamente un trend stabile nel momento in cui c'è una minaccia in questo momento in realtà siamo sempre qui sulle strade di Portico di Casetta con appunto Antonio Fannini e Marco Piccolo e Domenico Mellucci che sono nelle prime posizioni il gruppo di testa che in realtà sta attraversando le strade di Portico di Casetta e che si è distanziato di molto dalla massa il gruppo di testa a quanto pare si è condiviso in realtà la prima posizione come si è vincita dalle immagini una condivisione che una condivisione spontanea voglio dire nella gara avvenuta nella gara è tutto un gioco tattico in pratica abbiamo veramente atleti che sono di grosse società dalla International Security Service alla Tifata Runners Caserta società che possegono giustamente una struttura podistica non indifferente abbiamo adesso appunto sulle strade Antonio Farina Marco Piccolo in prima posizione secondo Antonio Farina terzo Domenico Mellucci nelle immagini che proseguono nel loro intento di poter riuscire a raggiungere il traguardo e di effettuare lo sprint finale siamo in una curva vediamo cosa succede se c'è una fuga oppure meno davvero Marco Piccolo adesso si distanzia di mezzo metro da Antonio Farina dietro Antonio Farina c'è Domenico Mellucci Domenico Mellucci della Tifata Runners Caserta ancora lui che tenta giustamente di mantenere un ritmo costante vedete nelle immagini come si vince e quindi di nuovo attenzione c'è un distacco vediamo cosa succede ma è tutto resta lì diciamo è tutto invariato per quanto concerne l'inversione delle posizioni tutto resta invariato e c'è appunto scusatemi Marco Piccolo in prima posizione vediamo cosa succede e attenzione a quanto pare decide per una fuga Marco Piccolo nelle immagini si distanzia di circa due metri da Antonio Farina dietro Antonio Farina c'è Domenico Mellucci vediamo cosa succede qual è la dinamica di questa gara probabilmente qui si deciderà tutto allo svincolo vediamo cosa si decide continuo a mantenere un trend stabile il tridente il gruppo di testa molti sono incuriorisiti per strada per quanto concerne questo sprint tra tre atleti ed ecco che attenzione Marco Piccolo cerca la fuga vediamo qual è la dinamica qual è la sua idea la sua tattica vediamo che succederà ricordiamo i tra atleti provenienti dall'International Security Service mentre Mellucci è della Tifata Runners Caserta ancora in azione Marco Piccolo come si vince dalle immagini Marco Piccolo in azione continua Marco Piccolo a continua Marco Piccolo a gestire la prima posizione ecco c'è una curva e attenzione c'è appunto un distacco avviene il distacco non so se è Marco Piccolo che in realtà è riuscito si ha accelerato il ritmo Marco Piccolo attenzione ha accelerato il ritmo perché lo accelera anche nei confronti di Antonio Farina e quindi due metri in più rispetto ad Antonio Farina Antonio Farina però guarda dietro vediamo cosa succede c'è un distacco tra Marco Piccolo e Domenico Mellucci di ben circa dieci metri ancora Marco Piccolo in azione c'è una curva ed ecco adesso c'è un distacco totale da Domenico Mellucci quindi la distanza adesso è di circa venti metri tra Domenico Mellucci e Marco Piccolo e Antonio Farina c'è la rotatoria vediamo qui che succede i due atleti dell'International Secure vanno avanti e adesso è molto distaccato Domenico Mellucci nelle immagini ecco molto brava l'atleta della rifiata Van Ners Caserta che continua a proseguire siamo all'arrivo carissimi utenti vediamo cosa succede in questa dinamica ma a quanto pare sono i due atleti dell'International Secure di Service a dover tagliare il traguardo li abbiamo visti perché oramai avevano distaccato Domenico Mellucci e sono proprio loro vince Antonio Farina dell'International Security Service secondo Marco Piccolo che lo segue dell'International Security Service tempi 33 minuti e 31 secondi per Antonio Farina diciamo quasi lo stesso anche per Marco Piccolo vediamo adesso che succede attenzione Domenico Mellucci nelle immagini è proprio lui dovrebbe tagliare la terza posizione c'è lo speaker che sta parlando però attenzione ancora Domenico Mellucci però vedete non so forse è successo qualcosa probabilmente a Domenico peccato però perché ha fatto davvero una grande gara questi 50 metri mi dispiace veramente sono francamente dispiaciuto come giornalista e come redattore e come editore vince come terza posizione Giuseppe Angelillo dell'International Security Service infatti non taglia il traguardo non ha tagliato non sappiamo è caduto in questo momento dobbiamo verificare poi le sue condizioni ci rilascerà comunque un'intervista e poi quarto Adolfo Macolino di gruppo Mille Piedi segue di Rauso Forze Armate poi abbiamo Carbone di Libero ancora altri atleti stanno giungendo il traguardo vediamo cosa davvero una bella gara una gara bellissima però c'è stato questo intraccio poi giunge appunto appunto il milleotto si tratta di Paolo Nuzzolese di Terra dello Sport poi abbiamo Italo Cantiello della rifata Runners Caserta che taglia il traguardo Italo Cantiello abbiamo un altro corridore si tratta di Antonio D'Ambrosio Atletica Scafati nelle immagini ancora c'è un altro corridore un altro atleta scusate un po' di sta che taglia il traguardo si tratta di Marra Salvatore di Fata Runners Caserta poi giunge appunto Costanzo Salvatore Osiride Raffaele poi abbiamo appunto dell'avventura Feola Cioffi Ancora abbiamo Toppa Toppa dell'Atletica Marcianise qui sono arrivati alcuni un altro atleta da Rodder Runners Maddaloni due atleti della Rodder Runners Maddaloni poi abbiamo Cestrone Cestrone Migliaccio Migliaccio nelle immagini Avallone ecco stanno tutti tagliando il traguardo il 1247 è arrivato anche Avallone Durso Lombardo Migliozzi che stanno per tagliare il traguardo il 1133 poi arriva il 1136 Zitiello Nicola Atletica Cales e poi abbiamo Canonico Reste Faggiano Iacolare Costanzo Stella Rauci Massa di Monaco ecco davvero una grande gara una grande prestazione il 1230 poi arriva appunto il 1183 Stella è arrivato poi Paolo Rauci 1076 Luigi Massa poi di Monaco attenzione che sta per arrivare anche la prima donna eccola nelle immagini si tratta di Marina Lombardi dell'Atletica Marano Marina Lombardi prima donna classificata in prima posizione bionda taglia il traguardo bravissima eccola nelle immagini prima posizione per lei per la categoria femminile benissimo poi abbiamo ancora Tedesco Stasi Martone Barbati Mazzotti Cicala Monaco Francesco Tesone ed ecco arriva anche Barbati Cati Barbati della tifata Runners Caserta poi abbiamo Mazzotti Cicala Mignano Monaco Tesone come ho già detto prima in più abbiamo un'altra donna che dovrebbe arrivare a momenti e quindi abbiamo altri atleti che in questo momento stanno ripostendo un ruolo importantissimo abbiamo appunto Mohamed Faggiano Ambrosio Topalo Freda Ramini Sparaco Sarno Reccia Paniccioli Pezzera Santino Piccozzi poi abbiamo Amoruso Bifurco Gentile dell'Aventura Amico D'Amore Carillo Arpaia Totaro Abbiamo anche Cagliazza Davvero è stato un successo di questa Kermes sportiva come si vince dalle immagini quindi quindi giunge appunto Gentile come si vince dalle immagini abbiamo altri atleti che stanno tagliando il traguardo in realtà è stato davvero un successo della Kermes Podistica un successo derivante dall'ottima abbiamo Carillo, Carillo, Arpaia, Totaro, Cagliazzo dell'Aquila abbiamo D'Agostino, Carozza, Buonato, Manciacapra, tra poco dovrebbe arrivare ecco vedete quanti atleti abbiamo appunto il 1.5 dell'Aquila, Salvatore dell'Aquila della Podistica San Maritana poi abbiamo Giuseppe D'Agostino della Tifata Runners Caserta, abbiamo Pompeo Carozza e Leoni San Marchio Mancerista, Luigi Buonato della Podistica Normanna abbiamo Manciacapra di Tifata Runners Caserta, Di Santo, Pini Crispano, Roma Paolo, Camuso Giuseppe a Teletica Cales, Pellegrino Alessandro Fiammargento abbiamo Palumbo, Laurenza, Musco, abbiamo Antropoli di Monaco, davvero è stata una bellissima gara, diciamo ha consentito a molti podisti di poter raggiungere il traguardo abbiamo il 1027 Antropoli, nelle immagini, Antropoli della Tifata Runners Caserta, Pasquale di Monaco, Maratoneti Capoani a Capoca quindi ci sono due società podistiche, qua abbiamo 1223, quindi abbiamo Papa, Angelino, Di Donato abbiamo poi Perrotta, 1015, no Di Donato, poi segue Perrotta poi in fila Giovanni Lombardo, Pietro Calleo, Mario Cascalino, Giovanni Pastore, eccolo Giovanni Pastore poi dietro di lui abbiamo Giuliano Attianese, Bifulco, la posta Natale, abbiamo il 1070, la posta appunto Natale Pelliccia, Panico intanto arriva la terza classificata, Montemaria del Marathon Club Bordin eccola nelle immagini, terza posizione per lei, bravissima grazie a tutti